Cosa è un REIT? E come funziona? Come fa a soldi? Bene, entriamo nel teorico in questo video dove finalmente vado ad esplorare un po' la parte appunto teorica del mondo dei REITs. Forse la più monotona, ma quella che ci permette comunque di far capire se un investimento in un trust immobiliare possa essere un buon affare. In questo primo appuntamento teorico andiamo a capire cosa sia un REIT e quali siano i fattori positivi che li possano far diventare appetibili per gli investitori. Ciao a tutti, io sono Pasquale e questo è Io Risparmio e benvenuto in questo nuovo video. Un Real Estate Investment Trust o REIT è una struttura aziendale che fa profitti andando a possedere oppure andando a finanziare delle proprietà solitamente immobiliari. Il più importante mercato, neanche a farlo apposta ovviamente, è quello degli Stati Uniti d'America e qui vengono appunto creati legalmente per la prima volta i REITs. Questo viene attraverso il Real Investment Trust Act del 1960. I REITs sono un ghiotto investimento perché non pagano appunto alcuna imposta di reddito. Questo accade grazie al fatto che questa entità deve per forza versare per legge almeno il 90% del proprio reddito imponibile agli investitori sotto forma di dividendi. Questo gli permette di avere questa vantaggiosissima tassazione che non esiste per nessun'altra azienda. I REITs statunitensi sono fioriti così tanto nel corso degli anni che sono poi andati a servire come modello per più di altri 35 paesi in tutto il mondo. Un altro mercato molto importante è quello UK del Regno Unito di Gran Bretagna. Da circa sei decenni i REITs offrono i vantaggi importanti appunto dal punto di vista della semplicità del fare degli investimenti immobiliari a tutti gli investitori come me facendoli investire negli immobili che era prima un beneficio solo disponibile molto probabilmente solo da alcuni facoltosi oppure attraverso grandi entità finanziarie. Dal 1960 l'approccio REITs agli investimenti nel mondo immobiliare è stato perfezionato, migliorato ed è cresciuto fino a raggiungere un mercato azionario da 1 trilione di dollari. Rappresenta quasi 3 trilioni di dollari di attività immobiliari lorde con oltre 2 trilioni di dollari di quel totale provenienti da REITs quotati in borsa e da quelli che non sono quotati, public, quotati e non quotati. Il resto invece proviene da REITs privati. Tale crescita ha portato in parte alla creazione del nuovo settore immobiliare nel Global Industry Calcification Standard nel 2016. Secondo i dati di NIRIT, l'ente no profit statunitense che si occupa di promuovere il mercato di REITs appunto dal momento in cui esistono, al momento esistono 160 REITs che sono quotati sul mercato americano con un market cap totale di 1.104 miliardi di dollari con un dividendo medio annuale di circa 5.7%, numeri molto interessanti. Ma quali sarebbero i vantaggi che ci portano a propendere per questa asset class? Anche perché se ne sentono dire sempre di tutti i colori sui REITs e ci sono tante leggende metropolitane che vanno un po' andate distrutte. Prima di continuare, se questo contenuto è di tuo credimento ti chiedo di non dimenticare di lasciare un bel pollice in su per l'algoritmo di YouTube e per questo vecchietto che tanto bene vuole a te che guardi questo video. Bene, andiamo a vedere un attimo i vantaggi. Liquidità Ci sono oltre 160 REITs negoziati sulle borse statunitensi con una capitalizzazione combinata nel mercato azionario di oltre 1 trilione di US Dollars. Non si tratta per cui di un mercato piccolissimo o settoriale con scarsa liquidabilità dell'investimento. Nello stesso modo e con la stessa velocità con cui Apple o Tesla si possono comprare o vendere puoi anche comprare o vendere Iron Mountain o Realty Income, due grossi REITs. I REITs sono detenuti da investitori istituzionali ma anche da individuali nonché da fondi comuni di investimento e anche esistono degli ETF che seguono il mercato di REITs. Esiste anche un indice che segue il settore che è uno specchio importante del mercato immobiliare statunitense, quello di cui appunto è il più grande e di cui insomma vado a concentrarmi. Le azioni di REIT vengono quotate e acquistate e vendute sulle principali borse statunitensi ogni giorno per cui non si trovano su mercati ad esempio over the counter o TC che hanno una scarsa regolamentazione o scarsa liquidità. Tutte le società di controllo come ad esempio l'FCA o la SEC per farne due esempi sono a monitorare sulla genuinità delle aziende intervenendo dove necessario. Un altro grosso in vantaggio è la diversificazione. I REIT hanno storicamente fornito agli investitori un modo molto ma molto efficiente per diversificare il loro portafoglio e per ridurre il rischio e aumentare i rendimenti a lungo termine. Non c'è il REIT, punto e basta. Abbiamo il REIT residenziale, quello commerciale, anche quello diversificato che prende tutte quante le attività immobiliari, quello dei data center, quello dei prestiti immobiliari, mortgages. E noto che i REIT forniscono una bassa correlazione con il mercato più ampio e altre attività. E questo viene spesso notato da beta più bassi rispetto ad altre asset class. Ovviamente ci sono dei REIT specifici, quello è un altro discorso. I rendimenti REIT tendono a zigzagare, ad esempio con altri asset class, per cui avendone una parte in un buon portafoglio diversificato totale tende a calmirare la volatilità complessiva di un portafoglio ben strutturato. Un altro motivo è la trasparenza. I REIT quotati in borsa devono divulgare ovviamente informazioni di finanziarie agli investitori e alla società di controllo e riferire tempestivamente sui rischi e gli sviluppi commerciali dei propri asset. Come una qualsiasi azienda quotata i dati vengono forniti attraverso delle trimestrali o dei risoconti annuali, da quale poi un investitore può sempre andare a vedere e fare le proprie valutazioni sulla convenienza o meno dell'investimento che si è andato a fare o su quello che si vuole programmare di fare, i REIT offrono una maggiore visibilità sulle loro finanze e operazioni, la regolamentazione dei grossi vantaggi, i REIT in termini di vantaggi fiscali, a debito di una maggiore visibilità su tutte le operazioni che vengono fatte dalla società ed è per questo che, ad esempio, il mercato americano, la rete di quotazione e le regolazioni dei REIT quotate sono disciplinate dalla SEC, Security and Exchange Commission, oppure dalle borsi su cui le loro azioni vanno a commerciare. Un altro fattore, forse quello più conosciuto, che viene un po' menzionato sempre, è quello dei dividendi. L'IRS impone al REIT un versamento di almeno il 90% del loro reddito imponibile sotto forma di dividendi. Questo fa ottenere al REIT zero tasse per quanto riguarda la Corporation Tax. Ciò significa che, normalmente, i REIT che forniscono rendimenti più elevati rispetto alle altre attività che pagano dividendi tipicamente presenti nei mercati tradizionali, possono avere un po' dei vantaggi per l'investitore, soprattutto rispetto a chi fa reddito fisso come l'obbligazionario oppure chi fa, appunto, aziende particolari con altro dividendo, perché hanno questo vantaggio di poter avere più liquidità che non va spesa in tassazione, mentre molte altre aziende invece debbono fare. I vantaggi fiscali unici offerti da REIT possono tradurli rendimenti superiori per gli investitori che cercano rendimenti più elevati con una relativa stabilità. Quando, ovviamente, la parte non distribuita agli shareholder che è libera da tassazione può essere impiegata per altre attività, per la crescita aziendale, per l'acquisto di nuovi immobili, per l'investimento aziendale sotto altri punti di vista, insomma, sono tanti i vantaggi per il REIT per sé. Poi abbiamo le performance. Il track record dei REIT non va solo a fornire dividendi affidabili e in crescita, ma per molte aziende questo significa anche un capital gain piuttosto importante, per cui sul valore delle azioni se queste si vanno a guardare sul lungo termine. Storicamente i REIT offrono rendimenti maggiori dell'obbligazionario, ma anche di molte aziende da dividendo che molte volte vengono più blasonate e sono più sulla bocca di tutti. Di 25 anni che sono terminati a gennaio 2019, secondo una REIT, il rendimento totale anno composto dall'indice Fuzzi-NARIT, All Equity REIT, è stato superiore al 10.3%, per cui un punto percentuale in più rispetto al rendimento totale del più famoso e più blasonato Standard & Poor's 500 nello stesso arco temporale. Questo semplice fatto dovrebbe solamente e assolutamente eliminare qualsiasi alone di inutilità sull'asset class dei REITs. I dividendi significativi pagati da almeno il 90% dei loro renditi imponibili sono il tratto più noto e anche più allettante di cui senti spesso parlare per il mercato dei REITs, soprattutto quello americano, ma non è l'unico. Ci sono altri requisiti che la legislazione che la SEC stabilisce per questa asset class devono andare a seguire. Secondo la Security and Exchange Commission, appunto il SEC, degli Stati Uniti d'America ReITs deve anche avere i seguenti requisiti per accedere alla tassazione agevolata e per cui oltre al 90% dei loro incontroiti a dividendo deve anche fare questo, investire almeno il 75% del matrimonio totale in immobili, ricavare almeno il 75% del proprio reddito roldo da canoni di affitto di immobili oppure da interessi sui muti che finanziano immobili e o delle vendite immobiliari, essere una società di capitale per cui tassabile secondo la legislazione americana, essere gestito da un consiglio di amministrazione o da un consiglio fiduciario, per cui che ci sia un cappello di controllo anche interna lente, poi avere non meno di 100 azionisti dentro la fine del primo anno della loro attività dalla creazione, inoltre avere non più del 50% delle proprie azioni detenute da 5 o meno individui, in modo che questo non sia troppo manipolabile. La maggior parte dei diritti negoziati sono sulle principali borse, ma ci sono anche quelli che vengono definiti pubblici o non quotati, oppure quelli privati di cui ho accennato proprio all'inizio del video. I due tipi principali di REIT sono i REIT azionari, i Requity REIT, che offrono opzioni di riproprietà in affitto o a privati e a pubblici individui, e poi i gruppi di REIT ipotecari, i mortgage REITs, che sono comunque noti come M-REITs. Scomposti nella loro definizione più semplice, gli M-REITs vanno a prestare denaro ai proprietari di immobili, per acquistarne altri ad esempio. Ciò può venire sia sotto forma di finanziamenti diretti, attraverso mutui, o in modo più indiretto acquistando prestiti esistenti o titoli garantiti da ipoteche. Ma ovviamente, come dicevo all'inizio, non è parte di questo video e di questo argomento con un approfondimento che andiamo a fare anche su tutte le tipologie di REITs e sui loro settori, ne andremo a parlare nel prossimo episodio di questa serie. Ti ricordo che se non sei iscritto a questo canale lo puoi fare in qualsiasi momento cliccando sul tasto apposito e cliccando anche la campanella delle notifiche per non perderti nessun video successivo. Inoltre, seguimi anche sul blog www.risparmioinvesto.com dove pubblico ogni lunedì un nuovo articolo e anche su Instagram, io underscore risparmio. Ovviamente anche qui su YouTube dove pubblico ogni martedì, ogni venerdì un video nuovo e ogni giovedì dove c'è una live alternata di Buonanotte Mercati insieme ai tanti amici miei colleghi youtuber e dove pubblico anche la live su Rizzale Orecchie, appunto la live relativa a questa playlist. Bene, ti lascio andare perché anche per oggi è tutto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!